Buona domenica a tutti, la domenica c'è quella cosa che mi viene da dentro Fa! Fa! Ma che cazzo? Fa! Ma che cazzo? Fa! Ma che cazzo? Fa! Ma che cazzo fa? Che cazzo fa? Ma che cazzo fa? Buongiorno! Buongiorno! Ma che cazzo fa? Buongiorno! Oh grazie! Eh eh! Ogni domenica quando sono qua, tappa fissa! Eccola la ziggiana, vedi? Quanto è bella! Quanto l'amavo, all'amore mio! Bella, guarda! Occhiolino, linguaccia! Sai quanto comanda un paradiso eh? Tutti i fiorellini, c'è Drillo, Padre Spio, tutti! Un saluto la ziggiana! Tanti mi avete scritto dove potete trovare la ziggiana e ve lo dico, sembra un po' strana fa' sta cosa 12A, quindi a Bastia Umbra, eccola, sta qua! Se vuoi far vedere una cosa? Del vostro amico che oggi è assente perché sta al mare? Sei pronto? Guarda che ci manca che fa la neve! È davvero! A lei vi farò vedere? Quell'amico mio, che gli dicono il bello di Roma, guardate un po' come me la godo! Chi è? Chiappa su e fa a Parigi! Tu e qui dalla Bastia! Oh, era ora! Guarda quanto si sta bene la Bastia col sole! Eh? E poi, se è nata al mare, piove e ti tocca spendere i soldi, eh? Da sta col maione! A me fa anche la neve! Toh, montati per andare a Parigi! Com'è? Toh, a me quanto stanno bene, ecco! Teatro è aperto anche stamattina senza Filiberto! Che c'è fai con Filiberto? Zeccherole! Per dimettere... E ora dirò... Te tiro quel che non scherzo, eh! Allora, guarda, c'è quel che fai ben sapessi, va tuà! Ma se sta per dimettere! Va a casa tua! Che se fa? Che se fa, bel pulcino? Oh, è da sta ferme, eh! Che se fa? Mannaggia! No, c'è il Papa di là, eh! Non vuoi fare che cazzo, detendelo! No, è vero? Sì! Quando su Grusso? Eh? Eh? Quando su Grusso? Guarda, guarda su Grusso! Guarda! Sì, 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 sei grosso, voglio un grosso! Eh, ma te! Secondo me, è ora che qualcuno si trasforma in cantante! Lefdo di coglione! Camina! Secondo voi, scrivetemelo in Dvm! Perché secondo me è ora! Che è questa, no? È l'aquila! È vero, è un'aquila! Ma vaffanculo! Da retta, è un'aquila! Ma vaffanculo, va! È un'aquila, o no? Sì, va bene, va bene, è un'aquila, basta che te levi! Ma che mi sto asciupando, ma che cazzo sei Dio? Porco cazzo! Ma non la metto adesso, lei! Sì, siamo tutti i piatti vuoti, guarda che lavoro! Tu già stai mangiando, bravo! Bravo, bravo! Ma non la metto, lei! Ma tu hai la bocca piena! Ma non la metto qua! Se anche voi volete venire a mangiare qua, fate Swype, che a settembre due di voi saranno ospiti, quindi Swype, acquistate un articolo dal sito www.carlettolive.com e potrete venire a mangiare qua. Comunque è incredibile, se andate a vedere il capello, qualcuno mi ha detto, eh, che schifo, che schifo! Dove saranno i primi magari che vanno a mangiare certi sorciai, porco cane! Ma vabbè, tanto la gente deve rompere il cazzo sempre! Quando la gente si scandalizza, eh, c'avevi una caccola mentre hai fatto una storia, e allora? E allora che è? Una caccola! Ce sta, voi di qual è il problema? Io boh, cioè... So allibito delle volte, boh, come fa a manna bene? Il problema è che ancora stiamo con i pregiudizi, dei giudizi e pregiudizi, mamma mia! Proprio che gonfiore dei coglioni, veramente, oh! Una cosa assurda, giudizi e pregiudizi ancora, ancora stiamo a sto livello! Ci ucilla, c'è! E comunque, ti si pede con manna che quella è giusta, Pazzo, eh! Sì, e poi, cioè, se ci dà un gas così con la mano rotta... Eh, dai Niccolò, vai, dai! Eh, non è che devi fare solo le imprese impossibili! Falle a regoletire, eccolo qui! Eccolo qui! Dormimo? Ma mi dici che cazzo vuoi? Ma stai dormindo? Ma questo ho dormito, ma te ne vuoi andare? Riporto gli occhi! Ah, scusa, allora vabbè! No, vuoi giocare a padel, a padel! Sì, a padel! A padel! Visto che sei forte sui pronostici, secondo te che fa? Ma che ne so, queffè! Vinco o perdo! Ma che ne so, insomma, anche quei, padella, quei, quei giochi! È tipo un mischio tra tennis, racchettoni e ping pong, che considerando, passando per lo squash! Boh, io non ci capisco niente! Ma dimmi che fa, secondo te, vinco o perdo! Ma qua ne so io, che ne so io, non ne so che quel gioco è! Ma dimmi, secondo te, ha sensazione così, senza nemmeno sapere quello che vado a giocare, che comunque essi consapevole che il tuo... Perdo! Perdo! Sì! Grazie! Prego! Vi farò sapere! Io ieri l'ho viazzato! Grazie! Sì! Vedete, che hai fatto? Che hai fatto? Che è successo? Eh? Eh? Risultato? Risultato? Non mi sa contare! Ciao Polletto Life! C'è la ragione del mio nonno! Perso un'altra volta a padre al porto caglio! Incredibile! Un'altra volta! Un'altra volta ho perso! Ma tornerò! Non mollo un cazzo! Non si molla mai! Vai, manda! Mamma mia! Non ci ha un po' eh! Vai, vai! Vai, sì, così, sì! Sì, vai, vai, vai! Questo l'ho fatto io, eh! Sì, molto l'hai fatto tu! Ma chi è? Eh? Un cazzo! Come? Un cazzo! Cercavano tutti! E alla fine, eccolo qua! Sei contento? C'è fame? Ah, lei, siamo finiti! Siamo finiti! Quanta fame c'è? Quanta fame c'è? Quanta? Quanta! Stai contento? Un momento catardico! Com'è? Come è? Vai! Dov'è il sapore? C'è il sapore? No, non c'è il sapore! Ho via il sapore, ho via il sapore! C'è il sapore? Ho trovato il sapore! Com'è? Sta fatto il bando! Grazie! Vai, vai, vai! Dal bando, dal bando, dal bando! Dal bando, dal bando! Vai, vai, ancora, ancora! Vai! Non mangia la patata! Eh, eh! Vai! Arzughe? Arzughe? No, no! Ma sta Juve? Prima, no! Eh! Sta Juve? No, non toccare! Sta Juve? Ma portano a mele! Non toccare! Ma scusa una cosa, ma... Sta macchina... Ma sta macchina tutta colorata, tutta fluorescente, tutta... Ma che macchina sarebbe? La macchina è un po' cazzini! Oggi è domenica, e quindi che c'è oggi? Che si beve oggi? Più forte! Dal bando, dal bando! Schizzate, schizzate! No, no, no! Per schizzare! Schizzetta leggera te mangi, eh! Come si mangia questa? Come si mangia? Fieghela in quattro pezzi e mangiala tutta! Mamma mia, come lili e vagabondo!